Buonasera, benvenuti al Bello del Calcio. Io partirei da un mese, il mese di gennaio di questo nuovo anno, un mese che per il Napoli è stato sicuramente un mese positivo, mai più del Napoli che ha fatto grandi punti in classifica, grandi partite. Però per noi non è un mese sorridente, non è un mese fortunato perché questo mese ha portato via una colonna del Bello del Calcio che si chiamava Gianni Di Marzio, purtroppo pochi giorni fa. È strano dire è stato perché per me, io non ci credo, ancora non ci credo. Io la penso come te, anche io sto vivendo lo stesso sentimento, lo stesso stato d'animo, non riesco a capacitarmi dell'idea che Gianni non sia più con noi, soprattutto perché veramente ho ancora nella mia testa la sua voce, l'avevo sentito pochi giorni prima e quindi veramente la notizia mi ha sconvolto. Però siccome lui era una persona di un'energia straordinaria, aveva la vita dentro, non è stato solamente un grande allenatore, un grande uomo di calcio, ma è stato proprio un grande uomo a prescindere. Io lo voglio ricordare come amico, come penso tutti quanti, più per quello che era lui come persona che non quello che ha fatto nel calcio. Ci ha dato tanto, ci ha regalato tanto e la sua energia ci servirà per andare avanti. Allora facciamo in questo modo, mandiamo questa clip perché noi lo ricordiamo davvero sempre pieno di vita, ma soprattutto con una grande energia proprio nei dibattiti accesi, con i suoi amici che in quel momento lui trasformava, prendeva in giro e poi con loro proprio brindava subito nei post programmi. Noi lo vogliamo ricordare proprio così. Io ti dimostro al signor Fedele e al signor Rambaldi che io qua ho il 75% di vittoria e di pareggio di tutta la mia carriera. Ci andiamo a fare Giovanni! Ci andiamo a fare Giovanni! Ci andiamo a fare Giovanni! 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 Io sono stato il tuo ammiratore! Tu mi hai rubato una promozione in Serie B con Cosenza! Prima tu! Ma non rubata! Per furbizia! Perché tu sei nato! Prima tu e poi la furbizia! Ma perché tu pensi io sono Mariulo? È un sondaggio! Questo è un sondaggio! È un sondaggio! È un sondaggio! Furbo! Io voglio sapere! È la mia cosa che non risponde! Quel giorno che dovevi partorì quello lì! Ma non potevi andare al cinema! È leggerlo! Ma purtroppo quel momento... Hai fatto la seconda cosa buona! Io ho amici perché noi abbiamo la cultura degli amici! Hai capito? Se tu non li hai sono a fare i tuoi! Per me sono amici miei! Eh no! Tu hai detto qua sono tutti amici! Non siamo tutti amici! Hai detto una falsità! Non siamo tutti amici! Io sono amico con tanti anni! Ma non dirlo! Ma tu non sarai amico con qualcuno per fatti i tuoi perché non condividi con le stesse idee! No! Per me questi signori che sono qua sono amici! Dei tornare un dizio dal nostro mondo! Becca! Grazie. Non è facile, però ripeto, siccome l'abbiamo visto anche in questa clip, tutta questa sua energia, ma anche poi la simpatia, perché bisogna dire che Gianni aveva questa grande dote, anche quando litigava, di essere simpatico. Comunque, grande Gianni, ti vogliamo bene, sei sempre nei nostri cuori e rimarrai per sempre così. E sarai qui stasera, ecco, nel nostro studio, tutta la serata, io però vado da quella persona lì, Ciccio Marolda, che conosce Gianni dal mille... 977-88. Qualche anno. Parla di Gianni, lui ha sposato la vita e il calcio in un'unica passione, per lui non erano due cose scisse, era la stessa cosa, anche quando si parlava di altre cose le metafore del calcio erano sempre presenti in lui, quindi è stato veramente uno che ha dedicato tutto al calcio. Il calcio gli ha dato forse anche un po' meno di quello che avrebbe meritato, non parliamo del calcio, mi mancheranno di Gianni le lezioni, quando diceva queste lezioni ve le do gratis, non le faccio neanche pagare. Toglieva tutto dalla tavola e quei bicchieri si metteva a fare le tattiche, come avrebbero dovuto giocare certi allenatori. Quindi mi ricorderò questo, ma mi ricordo soprattutto la sua grande disponibilità, riuscire a essere amico immediatamente di tutti e farti sentire amico suo. E poi la generosità, ti prendeva sotto braccio e diceva guarda ci sta sto ragazzo che ha bisogno di aiuto, come lo possiamo aiutare, facciamo qualcosa per lui. Cioè una persona straordinaria. Grande umanità, grande umanità. Grande Gianni. Mi permetti che mi alzo per parlare del nostro grande amico Gianni. Allora prima di tutto una persona bella, simpatica, intelligente non morirà mai, rimarrà sempre con noi nei nostri cuori. Stasera ha tirato fuori un patentino, ha detto che ha il 75% delle vittorie. L'altro 25 gliel'ho tolto io, 1974 Catanzaro Brescia ho segnato 1-0 abbiamo vinto, 1977 finale di Coppa Italia, Napoli, Inter, Roma abbiamo vinto 2-1 e ho segnato. Gli ho tolto quelle soddisfazioni, ma lui era innamorato dei bravi giocatori, quelli che lavoravano tanto per la loro squadra, anche se ottenevano risultati. Era contento perché apprezzava molto il lavoro degli altri. Grazie Gianni. Grazie. Io l'ho conosciuto diciamo qui al bello del calcio Gianni, nonostante abbiamo girato sui campi di calcio in parallelo a tanti anni, ma personalmente l'ho conosciuto qua. E sono sempre rimasto, sempre, con una curiosità. Ma come sarà stato Gianni dentro lo spogliatoio? Io avrei pagato qualcosa. Per essere un calciatore di Gianni Di Mazzio. Non ambisco ad essere il calciatore, ma il mio mestiere, un preparatore atletico, un collaboratore, è vedere Gianni nel massimo del suo fulgore in uno spogliatoio, dopo una vittoria, dopo una sconfitta, prima di una partita. Prima di un Catanzaro Juventi. Prima di un Catanzaro Brescia. O dopo il gol di Altobelli. Mi sarebbe piaciuto tantissimo perché l'empatia che trasmetteva qua, la battuta sempre pronta, il drammatizzare e lo sdrammatizzare, essere un po' attore, in qualche modo fa parte anche dell'essere allenatore. E secondo me sarebbe stato divertente lavorare insieme a Gianni. Lui diceva, stasera, Claudia vogliamo fare un po' di cinema? Cioè, era questa proprio la sua frase. E poi i trappolari. Una cosa che a me sorprese, fatemela dire qualche anno fa, lavoravamo qua insieme. E il giorno dopo la trasmissione, lui mi chiama e dice, deve andare a Venezia da Zamparini. Perché hanno mandato via l'allenatore, gli ho fatto il tuo nome. Perché nonostante io non capisca niente di numeri, ho capito che hai certe qualità. E ti ho raccomandato, tra virgolette. Ecco, questa sua capacità, intuizione, che poi sappiamo tutti la storia di Maradona, che l'aveva proposto per primo. Lui aveva questa cosa qui, che le cose le sentiva dentro. Non aveva bisogno di girarci tanto intorno. Ho approfondito la conoscenza di Gianni l'anno scorso qui in trasmissione da voi. E quindi tutte queste cose che avete detto erano sacrosante, le avevamo viste. Ma la cosa bella è che dopo la trasmissione, al mattino quando ci svegliamo, facevamo colazione all'albergo, al Terminus. Io mi mettevo ad ascoltarlo, il maestro parlava di calcio, io stavo due o tre ore a ascoltare. Perché c'era un'enciclopedia vivente di situazioni, di conoscenze, di esperienze, di vissuto. Ed ero talmente incantato che una volta ho perso pure il treno. Cioè, ero talmente preso, perché questa passione, ovviamente si sente il passionale, no? Che stavo delle ore e una volta ho perso pure il treno. Cioè, quindi, persona carismatica, unica e mancherà sicuramente. Sì, voglio ricordarlo sotto un altro aspetto, quello dell'uomo di spettacolo. Nel 91-92 facevamo con Maurizio Mosca l'appello del martedì e c'era Giucas Casella che ipnotizzava gli ospiti. Quando un giorno venne il turno di Gianni e Gianni scommise con Giucas, scommetti che non mi ipnotizzi, perché l'ipnosi era una gestualità davanti agli occhi e Gianni aveva un problema a uno dei due occhi. Quando finì il tentativo di Giucas, gli dicevi, ti ho fregato, ti ho fregato, te l'avevo detto che non mi ipnotizzavi, volevi scommettere, io ti ho salvato i soldi almeno. E' bravissima proprio. Un uomo davvero un menso. Allora, qui con noi c'è l'US Angri 1927 e Remo Luzzi, il direttore generale, insieme naturalmente alla squadra, al presidente, hanno portato un omaggio. Aspetta, un microfono. Buonasera a tutti, un omaggio per Gianni che è stato un maestro per tutti noi. Spendere altre parole dopo quello che è stato detto, insomma, mi sembra... Reduttivo perché è una persona che, come sottolineava Pistocchi, da un punto di vista umano ha dato tantissimo a tutti noi, di una generazione precedente a lui, ed è uno dei pochi maestri che erano rimasti qui in Campania, non ha mai rinnegato la sua napoletanità. Ed è la cosa più bella perché la parte più bella di Napoli la rappresentava sicuramente. Allora, possiamo mettere lì la maglia? Un ricordo, un omaggio per Gianni da parte di l'US Angri. Ovviamente gliela faremo recapitare alla famiglia. Grazie. Io abbraccio in maniera davvero fortissima tutta la famiglia di Gianni, Tucci, Gianluca, che saranno pieni di dolore. Nipotini, vi abbraccio tantissimo, davvero, a tutti quanti voi. Andiamo da CL e ci vediamo qui tra pochissimo. Buon appetito a CL. Vi ritrovati. Allora, io sono in postazione web da Gennaro Arpaia, che ha qualcosa per noi. Sì, allora, aggiungo soltanto, prendo soltanto 10 secondi per dire che abbiamo avuto la fortuna di dire a Gianni ti vogliamo bene fino all'ultimo sulla nostra chat, quindi questo è un sorriso con cui chiudere e salutarlo. Torniamo a quello che è successo oggi, anzi a quello che è successo ieri. Vittoria nel derby, Claudia, oggi il Napoli non si è allenato, non lo farà nemmeno domani, tornerà in campo mercoledì perché, come sapete tutti, c'è la sosta. È stato stilato, proprio nelle ore di questo pomeriggio, il calendario che il Napoli si ritroverà alla ripresa. Innanzitutto la trasferta con il Venezia, anticipi e posticipi. domenica alle ore 15 e poi questo è molto interessante perché Napoli-Inter si giocherà di sabato alle 18, quindi il 12 di febbraio e poi Cagliari-Napoli, questa è un'importante notizia anche per noi, perché si giocherà di lunedì alle 19, quindi Cagliari è la partita che intermezza l'andata con il Barcellona e il ritorno di Europa League. Altra notizia che per il Napoli, per i tifosi del Napoli è importante, è in questi minuti in campo, Frank Anguissà in Coppa d'Africa, Camerun-Isole Comore. In questo momento vince il Camerun 1-0, si deve giocare il secondo tempo. Hai capito. Bene, bene. Allora, entriamo invece nel mondo. Noi abbiamo fatto questa anteprima appunto ricordando il nostro grandissimo amico che, vi ripeto, è ancora vivo per sempre nei nostri cuori, quella è la sua sedia, lo sarà sempre qui al Bello del Calcio. La famiglia noi l'abbracciamo tantissimo e io so, Max, che lui proprio perché diceva voglio fare cinema, facciamo un po' di cinema, sorridiamo, io non l'ho mai visto, non sorridere Gianni, l'ho sempre visto energico a ballare, a chiamare. Potremmo fare una trasmissione intera parlando di Gianni Di Marzio e forse non basterebbe, che poi il bello, al di là dell'aspetto calcistico e tutto quello che c'è dopo, quello che diceva Adriano, che hanno detto un po' tutti, quello che possiamo dire noi per averlo vissuto prima, durante e dopo le trasmissioni. Adesso stavo raccontando di quando a Dalia TV, non so per quale motivo io non potevo fare l'intervista del tuo partito, lui ha intervistato Murigno a Firenze, Fiorentina-Inter, con l'Inter che aveva perso, insomma ce ne sono le storie bellissime. E allora iniziamo il nostro bello del calcio. Sarà contento anche di questo Napoli che va forte. E sicuramente sarà contento così. Lo facciamo subito dopo la nostra telepromozione di Atufano, entriamo nel vivo del bello del calcio per parlare del nostro grande Napoli. A tra poco. Buona serata, grazie Peppe Di Franco, Pomerola Sound. Allora, entriamo nel video con l'accompagnamento ancora della nostra band, salutiamo Spiro al tuo Belli, Maurizio Pistocchi, Adriano Bacconi e ancora Alessandro Renica, Ciccio Marolda. Buonasera, buonasera Alessandro Bolide. Buonasera a voi. E ancora i nostri contori, quindi Giuseppe Zanone, capelli a testa alta, buonasera. Monica di Gelo Urbano Evolution, buonasera. E ancora Aurelio Baiano con tutti i suoi gioieri dall'altra parte. Stati Finanziamenti, buonasera. Cambia la bolletta.it, Glegi Gruppo, Gennaro Lagatta. Rita, buonasera. Energas. E vado subito da Gennaro Arpaia per raccontare e per naturalmente parlare di quelli che sono i nostri canali social, ma soprattutto l'app. Allora, innanzitutto plebiscito per Spillo, che da casa hanno chiesto Spillo se puoi partecipare alle feste dei bambini perché ti hanno visto fare bene le farfalline. Hai capito. Quindi ti invitano particolarmente. Hai capito? E' stato il migliore tra i sei canali. Allora, vado subito con la band. Detto ciò, ricordiamo le nostre coordinate. Sicuramente l'app Il Bello del Calcio Fondel da poter scaricare sui vostri smartphone. Restate connessi con noi per tutta la serata e giocate soprattutto con noi come fate tutti i giorni. E poi le nostre pagine Facebook, Il Bello del Calcio Show, dove potete scriverci dove ci avete scritto per tutta la giornata di oggi, le vostre domande a Maurizio Pistocchi. Quindi avremo una novità di questa sera. Tutto dedicato a Maurizio Pistocchi. Sarai qui al centro del palco. Maurizio, non ci sono richieste economiche, è tantissimo. Quindi soltanto domande cattive. C'è già qualcosa. Anche per fare una domanda a Pistocchi. Certo, andiamo là. Ok, allora dopo farei anche la tua domanda. Quindi se riguarda i numeri sei già chiesto. Ma rovinate. Intanto le nostre buste, i nostri temi di questa sera della Napoli a Fredda. La sigla delle buste c'è. La busta numero uno è quella con la stella. Ecco, affrettatevi. Poi Luciano, l'incontentabile, gol e rabbia. Affrettatevi è il primo tema di questa sera che coincide anche con il tema scelto dal pubblico. Perché sull'app del Bello del Calcio Fontel i nostri amici tifosi vogliono sentire parlare di questo tema. Per il 66% affrettatevi, mercato e futuro. 17% Luciano, l'incontentabile. E gol e rabbia ancora il 17%. Allora detto ciò... Però il futuro, scusa che non so chi è da voi, futuro prossimo o futuro remoto? Secondo me tanti hanno votato questo tema perché ieri le parole di Spalletti e quelle di Mertens in qualche modo hanno fatto accendere un campionato d'allarme. Perché Spalletti ne ha parlato detto che il prossimo anno con la nuova politica economica del club dobbiamo capire quelli che saranno i parametri. Ma abbiamo una società forte che ha sempre costruito squadre forti. Sì, io sono sincero, mi rimango un po' sorpreso perché credo che più che pensare la prossima stagione penserei a questa. Però io mi adeguo. Ah no, infatti questo è il tema scelto dal pubblico. Noi abbiamo realizzato una clip, partiamo da questa ma naturalmente parleremo quindi del futuro di Mertens attraverso le sue parole del post partita. Tra l'altro ha parlato anche di Lorenzo Insigne e lo ha fatto secondo me in una maniera molto giusta da buon padre di famiglia di questa squadra. Parleremo di questo e soprattutto della partita di ieri che per alcuni è stato un allenamento, per altri una partita amichevole. Ma non possiamo tralasciare il primo tempo in cui comunque ha giocato molto bene la squadra avversaria. Clip e torniamo qui così la commentiamo tutti insieme. Tre vittorie di fila, dieci punti su dodici nel 2022. Il nuovo anno del Napoli ha ancora qualche ombra, ma le luci ora si vedono forti, anzi si rivedono. Spalletti ha stretto i denti e ora sta ritrovando anche il suo Napoli. Il Venezia dopo la sosta sarà la prova del nove con vista sul derby di Milano, poi il febbraio decisivo. Ic et nunc, qui è ora, anzi qui è a febbraio, per giocarsi tutto. Mi piace di più il pezzo finale della clip perché comunque adesso bisogna stringere. Quindi un futuro molto molto vicino però, è il mese prossimo che sarà un mese importante. Maurizio? Diciamo che due domeniche fa eravamo in pochi a sostenere che il Napoli lottava ancora per lo scudetto. Adesso siamo in tanti di più. Napoli ha fatto un mese di gennaio importante considerando quelle che erano tutte le problematiche. Ha fatto qualcuno questo che sta facendo? No, no, no. Mi sembra un attacco qualcuno. No, fiurti. A breve, gara. È una semplicissima. No, lui non c'era, la verità non è stata. Anzi, io ho sempre sostenuto che il Napoli... Io penso che questa sia una squadra che ha un'identità molto profonda. È una squadra che ha cambiato degli interpreti ma ha conservato una qualità del gioco molto molto alta. È una squadra che gioca bene. Gioca bene a calcio, ha conoscenza e Spalletti ha fatto un grande lavoro. Quindi, secondo me, ci sono tutti i presupposti. Il campionato è ancora aperto. Certo, l'Inter è là davanti e ha anche un vantaggio importante. Però deve giocare contro il Milan nel derby e poi dovrà giocare proprio contro il Napoli in campionato. Quindi è ancora tutto molto divertente, tutto molto bello da vedere. Il campionato è aperto, non è chiuso per nulla. Spillo, mi dispiace per la tua Inter ma io sono così convinto che ti sia lo scudetto. Ho detto che il campionato non è finito, che si è riaperto perché per gli interisti è anche più bello vincerlo magari soffrendo un po' di più. Però, io volevo dire, per quanto riguarda il Napoli, abbiamo sempre detto che il Napoli ha una rosa importante, è una squadra che deve lottare per i primi posti e quindi tutte le volte che non ha vinto o ha pareggiato è perché non hanno giocato le partite come si devono. Allora, oggi il Napoli nelle ultime quattro partite ha fatto dieci punti, esattamente è stata la squadra che ne ha fatti di più. Solo l'Inter può raggiungere la dieci perché ha fatto due vittorie, deve recuperare una partita. L'Atalanta e il Milan ne hanno fatti sei. Quindi il Napoli è tornato alla grande. Però, mi è venuta in mente una cosa, allora, a vedere questo Napoli qui, no? E mi sono fatto questa domanda, ma se il Napoli aveva a disposizione un attaccante forte, che ce l'aveva, così meglio, ma che in due anni ti fa dieci partite, a quest'ora dov'errà? Allora, io, allora, è una mia idea questa, io, dicendo, Osimen è un grande attaccante, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre usannato, ma questa squadra ha dato poco. Allora, io sono dell'idea che il Napoli deve prendere un grande attaccante e deve rinunciare anche a Osimen, uno che ti fa dieci partite all'anno. C'è polemica subito, ma scende la... Beh, diciamo che Osimen non ha dato quello che poteva dare, non tanto per problemi, diciamo, particolari, se no, infortuni. Perché è avuto sempre problemi? Se a Natale se ne va a fare la samba, è logico che... Ma se ne sono andati via tu. Oggettivamente, Osimen è un giocatore molto utile per il calcio del Napoli, lui attacca sempre alla profondità, ti allunga la linea di difesa... No, però lui dice, ha giocato poco, quindi... Anche se non segna... Sono io il primo a dire che è un grande giocatore. Eh, lo so, ma poverino, se si è fatto male e si è rotta la faccia, non è scusa di nessuno. No, ma la faccia, quanti infortuni... Da quando è arrivato, quanti infortuni ha fatto, quanti Covid ha fatto. È stato parecchio fuori. Sicuramente è stato sfortunato, eh. È stato sfortunato, ma non è che tu hai detto che deve prendere un grande attaccante. Non è questo, cioè... La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene. Allora, Spiro, la vera differenza in questo momento nel campionato del Napoli sono quelle due partite perse con l'Empoli e con la Spezia su autogol e facendo in tutte e due le partite dai 18 ai 25 tiri in porta. Pali, occasioni mancate. Cioè, il Napoli, oggettivamente, con quei sei punti lì, dov'era? Facciamoci un calcolo. No, ma ho capito, ma c'era Osimena in quelle partite lì? Scusa? C'era Osimena in quelle partite lì? Eh, c'era, ma per la volta non c'era. Non c'era. C'era nella rosa, ma non c'era. C'era un attaccante alla Vlaovic, Napoli era in testa alla classifica. Vabbè, con se c'era, però, Spiro, non si fa niente. Cosa vuol dire? No, vabbè, è logica. Allora non parliamo di niente, andiamo via. No, ma scusa, Spiro. Scusa, di cosa fa? Ma, però, Spiro, che c'entra? Cioè, se c'era. Cioè, il risultato del gioco è stato lo stesso. Ma allora, hai capito quello che ho detto io? Tutto ho capito. Tutto ho capito. Quindi, allora, tu devi dire solo, se ho ragione o no. Secondo me no. Secondo me no. Vabbè, comunque, è un tema interessante questo qua. Perché, comunque sia, Osimena, adesso, dati alla mano. Da quando è venuto a oggi, ha giocato forse neanche la metà delle partite. Ho parlato io e te poco fa, nel nostro podcast. Il cazzo non è un gioco su Spotify, lo voglio dire, non voglio fare pubblicità. Il discorso di Spiro è, in qualche modo, il discorso che ha fatto il Chelsea l'anno scorso. Che ha detto, vabbè, Ebram è bravo, sì, però poi ciccia, gioca poco, gol, è troppo giovane. Pugliamo il centro avanti vero. Ha rinunciato a Ebram e ha preso Lukaku, l'usato sicuro. Se il Napoli facesse una scelta, a parte che non la farà mai la scelta così il Napoli, ma se dovesse fare la scelta del Chelsea o di Spiro, farebbe bene o male? A mio avviso farebbe male. Ha fatto un grande investimento su questo ragazzo, ci deve credere. Perfetto. Dopo due anni che Osimena è qui, non da due giorni. Quindi, secondo Spiro, invece il Napoli dovrebbe acquistare un centro avanti. Cioè, io piace. Non lo vede il centro avanti del Napoli? No, 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 non è che non lo vedo come centro avanti del Napoli, perché io sono il primo a dire che è un giocatore fortissimo. Aspetta, ti voglio aiutare a sostenere la tua tesi. Fermo, fermo, ti voglio aiutare. In questo momento può partire l'instant quiz? Gennaro? È già partito l'instant quiz, quindi potete rispondere sulla nostra app, vi arriverà tra pochissimo una push. Avete 15 minuti di tempo per decidere se il Napoli ha bisogno di un altro attaccante o va bene Vittor Osimena. Ok, vai Spillo, perché ha bisogno di un altro attaccante e perché lo dici dopo due anni? Allora, perché gioca troppo poco e nel campionato italiano, se tu non hai un attaccante che ha fatto quattro gol, Osimena, nel Napoli quest'anno, ha una squadra fortissima, crea tanto, però lui non c'è mai. È sempre infortunato o è sempre, stavolta neanche con la nazionale, ha sempre qualche problema. Solo per questo io dico che magari il Napoli farebbe meglio appuntare su un attaccante. Ma tu che dici? Credo che scuoti la testa, che dici? No, per me è a torto Spillo, quindi non votate per Spillo. Io penso a torto. Allora, a torto perché è vero che ha giocato poco, ma questo è stato... Ma ha fatto quattro gol. È prima la spalla, poi il Covid, poi la faccia. Il problema suo non è giocare poco e quindi non serve. Il problema suo è che lui non ha la cattiveria dell'attaccante. Lui si infortuna perché entra male spesso, perché o va fuori tempo oppure come si è fatto male al volto. È saltato dritto senza neanche un braccio per tutelarsi. È ovvio che la nuca dell'avversario ti va in faccia. Cioè lui deve imparare questo, non imparare a fare l'ora. L'abbiamo parlato, però è un investimento importante. Lui si è arrabbiato in partita al termine e si è arrabbiato perché si è nervosito un attimo. Perché Politano non gli ha passato il pallone. Ma vuole dimostrare due cose, innanzitutto che sta bene e non ha paura, no? E deve dimostrare poi quello che doveva dimostrare anche prima degli infortuni. Diciamo che ha un'energia repressa. Voglio tornare sull'instant quiz, per me osimente deve rimanere, non si discute. Però quello che dice Spillo secondo me è più sottile come ragionamento di quello che può sembrare a prima vista. Perché secondo me Spillo fa una critica anche di queste assenze sul carattere del giocatore. Perché Spillo l'ultima volta che siamo stati a Cine insieme mi ha raccontato di un recupero pazzesco che lui ha fatto tra una partita e l'altra, stando da solo allenarsi col preparatore atletico per una settimana. Puoi raccontare quella settimana lì? Perché secondo me lui contesta questo, che forse non fa proprio la vita da atleta che dovrebbe fare un giovane per affermarsi. Coppa delle Coppe, Inter e Real Madrid da Milano 3 a 1. Andiamo a giocare il ritorno, vincevamo 1 a 0, avevo fatto gol, a fine primo tempo mi hanno massacrato, sono dovuto uscire. Avevo un ginocchio così, non riuscivo a camminare. Il giorno dopo siamo arrivati alla Pinettina, Bersellini mi dice cosa vuoi fare? Vai a casa o ti fermi, rimane il secondo, onesti, vedi se riesci a recuperare. E io ero lì, ci andavamo perso la partita, mi fermo da solo da Piano Gentile, con i riscaldamenti spenti. Mi sono fermato tre giorni, due allenamenti al giorno, onesti che mi massaggiava. Che mi va? Sono arrivato la domenica, la domenica mattina Bersellini mi dice Spillo allora cosa vuoi fare? E ho detto mister, sono rimasto qui quattro giorni da solo, non sono andato a casa, cosa faccio? Voglio provare, no? Allora sono andato in campo, Intercomo, 3 a 0, ho fatto tre gol. Va bene, ma a prescindere che non ci sono più... Allora, il calcio evita tanto, ma anche tu devi dare qualcosa. No, Spillo, però a prescindere che non ci sono più i ginocchi di una volta. A prescindere che... Non ci sono più le ginocchia di una volta. Ma non si può dare gol a Osimena se si fa male, poveretto. No, però questo è un po' di povide, un po' pischero. Cioè, secondo me, la contestazione di Spillo è un po' su queste cose anche. Ma io volevo tornare sul tema, e cioè il tema secondo me è che Napoli può pensare allo scudetto? Sì, aspetta, aspetta che stiamo facendo un'istattività. Come vuoi andare? Non capire argomento. Ci arriviamo, però... Non capire argomento. Ci arriviamo, ci arriviamo. No, allora, hai ragione. Implicitamente era questo, perché qua c'è stato qualcuno che ha detto che Napoli quest'anno non doveva pensare allo scudetto, doveva aprire un ciclo con Spallitti e pensare... Metti un po' di ordine, volile, volile, trova... Osimena, voglio tranquillizzare tutti, caro Spillo, caro Altobelli, voglio tranquillizzare tutti. Osimena è stata portata a Pompei e fa una bella benedizione da un prete, quindi stiamo tranquilli e secondo me non si informa più. Sicuramente, speriamo, speriamo. Indubbiamente vogliamo, dobbiamo parlare del Napoli, le prospettive, il campionato, però obiettivamente Spillo ha lanciato un tema che non è che possiamo dire, ok, e poi passiamo a un'altra... Affrontiamo! Perché se no sempre che sei caduto da parte... Quando vedo giocare il Napoli e quando vedo Osimena in panchina, che poi entra e vorrebbe segnare il gol con la Salernitana, che erano in questo... Tu sai che quello dell'attaccante è anche un ruolo che richiede una maturazione. Io ho seguito Milito all'inizio della carriera, lui all'inizio della carriera non era quel Milito che poi è diventato campione del triplete con l'Inter. È migliorato col tempo, si deve adattare, viene da un campionato francese dove le difese sono molto ingenue, molto approssimative e dove le qualità che ha avuto... Non aveva fatto tantissimi gol in Francia, nonostante questo. Certo, ma un giocatore ha bisogno anche di attantarsi un po'. Ma lui ha fatto già quest'anno un grosso progresso rispetto all'anno scorso. Come? Dal punto di vista calcistico? Ha variato il suo tema di gioco, prima era uno solamente che andava in profondità... Da quando è arrivato è stato sempre un attaccante che va in conto, va nello spazio. Dì a Spillo che forse è stato un po' distratto. C'è una cosa che è migliorata molto in questo ragazzo, a mio avviso. Nel giocare spalle alla porta è sempre un po' macchinoso nel primo movimento. Però ha imparato una cosa, non stoppare la palla nei piedi. Col primo controllo buttarsi la palla a destra o a sinistra e orientarsi subito. E questo gli ha permesso spesso sul primo controllo di saltare l'avversario e poi dopo partire con la progressione. E questa cosa non la faceva la progressione. Quando lui è arrivato qui a Napoli, era un giocatore che sapeva fare tutto. L'abbiamo visto le prime giornate quando ha segnato subito 4-5 gol in tutte le maniere. Poi man mano, con gli infortuni, non ha più avuto quella resa che... L'intermitterio. Era monotematico. Adesso è molto cambiato. Come dice giustamente Baccio. Ma quasi quasi io allora lo preferisco quello che era appena arrivato che quello che è adesso che è già arrivato. Ma adesso era più imprevedibile. Era più imprevedibile. Vuol dire che molto cambiato mi sembra eccessivo. Era più imprevedibile e facile da mancare. E lo preferisco quello di adesso allora. Molto cambiato mi sembra eccessivo. Allora, due cose. Mi sembra eccessivo. Come ha detto Baccio. È migliorato su qualcosa ma molto cambiato no? Sì, è molto cambiato. Perché le caratteristiche sono quelle. Perché prima faceva una sola cosa, adesso ne fa almeno due o tre. Fa qualcosina di più. Va a cercare gli spazi dove ci sono, muovendosi anche destra e sinistra. Vieni incontro e sa gestire la palla. Ma anche l'anno scorso si muoveva destra e sinistra. Direi che a spalle alla porta ha imparato a difendere la palla e far salire la squadra. Però non è poco. Cosa che prima rimbalzava sempre. Perché era anche, deve ambientarsi, è giovane. Era molto attiso anche perché ha molte responsabilità sto ragazzo. Io accetto tutte le qualità di Osipendi. Dopo la fine io vado a guardare la classifica dei capocannonieri. Non c'è mai. È un pratico. Però diciamo una cosa. Che numeri non scegono la tesi? A me sembra che questo Osipendi serva poco a questo Napoli. Che è una provocazione. Che sembra una provocazione. A questo Napoli non manca una prima punta. Manca un trequartista. Perché non c'è nessuno dei giocatori della Roma del Napoli che ha quel ruolo lì. C'ha giocare, spalle alla porta, gestire la palla. Quello spese che Napoli ha aperto. Gli soldi c'entravanti fanno 3-4 gol. E poi si ritrovano a 10-12. Come Ciro Immobile. Ma scusa, Gieco che gioca nell'Inter campione d'Italia. Mi sembra che abbia fatto il gol col Venezia dopo una vita che non segnava. Ma non gioca neanche titolare. Gioca nell'Inter campione d'Italia e sta in Italia da 20 anni. Sta in Italia da 20 anni. Spillo, sta in Italia da 20 anni. Non è titolare. Non è titolare. No, Poglite, possiamo aiutare Spillo in questo posto. Osimene ci ha fatto qualcosa, Altobello. Perché non so che a me ti ha fatto qualcosa, Osimene. Non lo so. Ti ha fatto qualcosa di personale. Non lo so che è successo. Non lo so. Tutto a posto. Ho chiesto troppo canito. Massimo, acqua gasata. Però, però, io adesso, non mi ricordo i numeri. Sei troppo cattivo. Non è quello di stagione. Non hai 3-4 anni. Dimmi. Allora, io ho detto che sono stato uno dei primi giocatori di Osimene. Io ho detto che è un grande giocatore, Osimene. Ma infortuni come fai a dire che sei infortunato? Perché se uno prende due o tre volte il Covid e poi... Due volte il Covid, però non parlavo in maniera leggera. Dove era? Era qui? E ma quanti cacciatori hanno preso il Covid? Solo Simona ha preso il Covid. Tanti cacciatori hanno preso il Covid. Io ho detto che se il Napoli avesse un altro attaccante come... Questo sì. ...era in testa alla classifica. Se avesse affiancato un altro attaccante... Allora, se tu vai a guardare i gol che ha fatto Vraovic, i gol che fa Immobili, i gol che fa... Zeko, sì, Zeko, la riserva a Zeko. Ha fatto 8 gol. Se Osimene faceva 8 gol, magari aveva 5 punti in più. Come riserva? Ma chi sono i titolari dell'Unito? I titolari dell'Unito, dall'inizio dell'anno, sono vantaggi. Allora voi che... Non è una riserva. Guardate anche a Napoli, volete dire che vi sta bene questo Osimene. E tienitelo questo Osimene, allora. No. Perché è forte a casa. Allora, ascolta Spillo, innanzitutto dovresti dire chi potrebbe stare al suo posto. Hai fatto dei nomi, hai parlato di un ragazzo di 21 anni per il quale spendono 70-80 milioni di euro. Adesso. Io personalmente di Vraovic ho parlato 3 anni fa, ci sono delle interviste. No, io ho detto Vraovic. Ci sono delle interviste, ma però vi fate dare un ulteriore... Per esempio, un attaccante che segna... Aspetta, Maurizio, vi do un altro elemento, perché è interessante questo che ha trovato Gennaro Arpaia sulle partite giocate da Osimene. Ha saltato solo in campionato, tra l'anno scorso e quest'anno ovviamente, 21 partite sulle 61 totali. Cioè un terzo, non so poche però ragazzi. Ma per infortuni, no? No, ma no, io non volevo entrare nel merito tecnico. Volevo dire che per una squadra che lotta per posizioni importanti, in questo caso per vincere anche lo Scudetto, la presenza di Osimene diventa fondamentale. Fino ad ora ha mancato tante partite, tutte giustificate, per l'amor di Dio. Diciamo che ha aiutato molto Mertens anche in questo periodo, eh? Eh sì, se non l'avevi esatto. Ma non può continuare a fare questo percorso, deve cambiare. Cioè non deve fare più partite, deve partire. Deve crescere. Vogliamo portare di nuovo... Vogliamo portare di nuovo il discorso. Intanto il pubblico da casa sta votando sull'app del Bello del Calcio Fontel. Ancora 5 minuti per votare, scaricate l'app del Bello del Calcio Fontel per rispondere al sondaggio. Intanto vi riporto invece sulla partita di ieri e su quello che è accaduto in campo. E non solo. Allora abbiamo selezionato le prime pagine dei giornali. Il mattino, con una lente di ingrandimento appunto sul titolo della pagina sportiva, dice Insigne Cuore Napoli. Il Corriere dello Sport solo il Napoli avanza, Insigne raggiunge Diego. Tutto Sport il Napoli aggancia il secondo posto e la Gazzetta Insigne come Maradona e il Napoli ora è secondo. Un Napoli che pian piano, insomma io ho sempre in mente l'altalena perché eravamo qui all'inizio del campionato dicendo che il Napoli lotta per lo scudetto. Ad un certo punto si è arrestato, quindi tutti quanti le mani avanti. Perché in essenza hanno fatto la loro differenza, non c'è dubbio. E adesso invece diciamo si aprono nuovi spiragli. Ciccio, vengo da te, parto da te. Rispondo all'attacco di Pistocchi. Vai! All'attacco! No, la volta scusa ho detto, il Napoli ha l'ultima occasione per riaprire il discorso scudetto. Che il primo step è quello di riagganciare il Milan. E onestamente mi aspettavo che ci riuscisse dopo la partita col Venezia, che non è una partita in più. L'altro è poi avere lo scontro diretto, vincere lo scontro diretto e allora si riaprono, si possono riaprire i giochi. Anche perché l'Inter sta in un momento non proprio felicissimo. Lo vedo un po' in difficoltà a segnare, a far giocare. Quindi pure col Venezia si è salvato da un pareggio. Però non Spillo, a poco, a poco. Secondo un attaccante... Spillo! Io sono un tifoso, Spillo! Ci vuoi nel posto? Non c'è male, lo so, non c'è male! Io sono un tifoso! Sto dicendo che le ultime due partite dell'Inter ha sofferto tanto, ma le ha vinto. Sono quelle partite sporche che vincono, che ti fanno vincere i campi. E quindi se il Napoli riuscirà a vincere con Venezia e poi a prendere i punti con l'Inter, riapre veramente il discorso Scudetto. In una maniera insperata, perché il Napoli ha buttato punti in casa che assolutamente non doveva buttare. E non solo quelli con lo Spezia e con l'Empoli, ma io penso anche ai due persi col Sassuolo che ricevi alla fine. E ti dico che il Napoli ha buttato via la vittoria anche contro la Juve. Io voglio dire, visto che il tema dei nostri tifosi era mercato e futuro, forse troppo verso il futuro della prossima stagione. Il Napoli, il mercato a gennaio lo sfrutterà alla grande, perché il Napoli avrà tre nuovi arrivi. Uno è Osimene, uno è Anguissà e uno è Coulibaly. Ragazzi, non c'è nessuna squadra che si può rafforzare così. Quindi io credo che il mercato di gennaio... Anguissà però a febbraio perché nel frattempo hanno fatto due azzine. Ah beh, però voglio dire, adesso, non fa il pignolo, è chiaro, sono anch'io. Massimo è Osimene, segna con l'Inter, la prima telefonata, chi la faccio secondo te? Allora, forse non ha capito bene quello che volevo dire. Allora, io ho semplicemente detto che se il Napoli aveva a disposizione un altro attaccante che invece di quattro gol ne faceva dieci, sarebbe primo in classifica. Poi voi dite, no, Osimene va bene questo qui, ok, tieniti questo. Però diciamo che a rinforzare questo Napoli, oltre a Osimene che si spera abbia continuità, indubbiamente, Koulibaly e Anguissà a febbraio, diventano dei giocatori. Ecco perché il Napoli deve assolutamente, secondo me, giocarsi bene. Anguissà ha dimostrato di essere un grande giocatore, Spalletti, quando lo ha portato qui, ha scommesso su di lui e l'ha vinta. Koulibaly lo conoscevamo tutti, è un grande difensore, uno dei più grandi difensori in Europa, quindi il ritorno non può che far bene al Napoli. Ridendo scherzando sono un mese in passa che non ci sono questi giocatori. Perché non c'è? È quella lì che, perché, di solito, se tu sei l'attaccante che ti fa 20 gol, puoi sperare di vincere qualcosa. Io penso che... Tu sei l'attaccante che ti segna qualche gol. Allora lui ha detto, io sentire, vado al bello del calcio a parlare di Osimene e basta. Io penso questo invece, io personalmente, insomma, poi ci sono le trasmissioni registrate, e ho sempre pensato all'inizio della stagione, che il Napoli dovesse e potesse lottare per lo scudetto. Credo che, per come si sono messe le cose, nonostante le difficoltà delle assenze che hanno comunque inciso, come stanno incidendo anche per il Milan, a mio avviso, perché bisogna essere onesti, e sull'Atalanta, ora però il Napoli si ritrova in corsa con i rinforzi, perché arrivano i rinforzi. Cioè, credo che sia una grande opportunità. Io non credo che l'Inter abbia vinto lo scudetto, assolutamente non ci credo. Non l'Antico diventa il Napoli. No, ma guarda, la testimonianza di quello che dice, sono i giocatori del Napoli che ti stanno dicendo che ci credono. Che ci credono, è quella cosa più importante. Perché dopo che hai fatto un girone, tutto il girone d'andata, in queste condizioni, e ti sei confrontato con tutti, secondo me hanno capito che non sono inferiori a nessuno. Poi hanno capito anche che se entreranno questi giocatori, come è già successo l'anno scorso, da gennaio in poi, puoi fare un filotto di partite importanti e giocarti il campionato. È anche vero che qualche criticità questo Napoli ce l'ha. Perché comunque se hai perso con l'Empoli, con lo Spezia, esatto, a parte Osimei, qualche problema questo Napoli ce l'ha. Però io credo che questa squadra, adesso in poi, possa solo che crescere. Quindi se supera quel piccolo problemino che per me è quando viene aggredito, quando trova squadre che sono molto forti fisicamente, intense, li mette in difficoltà. Perché tu hai perso contro squadre che stavano molto bene fisicamente e che ti hanno impedito di esprimere il tuo gioco di grande qualità. Se supera con questi giocatori questo problema, il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. E a proposito, nella partita di ieri non è che ci sia molto da dire sul piano tattico. Credo che gli spunti siano il nervosismo di Osimei, di cui abbiamo parlato, e le dichiarazioni e insigne, diciamo. Però poi voglio sentire Adriano, perché ho preparato una cosa sulla cattiveria, giusto? Sì, sulle affermazioni di Spalletti. Perché questo forse è il focus per andare avanti e per guardare oltre. Allora partiremo da questo. Prima ne ha fatto il dimagrimento in relax e tra tanti programmi ci sono dei pochi. Vediamo le dichiarazioni di Spalletti, così ci agganciamo per fare l'assist ad Adriano Baccoglia. Abbiamo reagito bene al pareggio, ma deve migliorare la nostra cattiveria. Osimei era nervoso a fine gara, solo perché non ha fatto gol. Futuro dobbiamo fare attenzione ai conti del club, ma abbiamo una società forte e un presidente che ha sempre costruito squadre forti. Eh sì. Allora Adriano, vieni qui. Dobbiamo migliorare la nostra cattiveria. Partiamo da qua. Dai. E vediamo quattro numeri che ho preparato. Se la regia li manda in onda, questo è il primo. Abbiamo il nostro I'm Coach che ci partorisce queste informazioni esclusive. Tempo di recupero palla dopo la palla persa. Cioè il Napoli ha una caratteristica particolare che quando perde la palla non scappa all'indietro, ma riaggredisce subito l'avversario. E questa è una qualità particolare che il Napoli ha costruito giornata dopo giornata e che fa parte ormai del suo bagaglio. Tutti i giocatori, centrocampisti, gli attaccanti in particolare, sanno che non devono staccare la testa se perdono il pallone. e hanno 9 secondi e 9, qui c'è un mio refuso, 9 secondi e 9 di recupero palla. Tempo di recupero palla dalla palla persa. E' seconda solo dopo la Fiorentina d'Italiano, che sappiamo inculcare questa mentalità, già lo faceva lo Spezia l'anno scorso. Ecco, i dati sul recupero palla e sulla cattiveria del Napoli positivi finiscono qua. Andiamo a vedere gli altri che in realtà danno ragione a Spalletti. Velocità, in fase di non possesso. Il Napoli in fase di non possesso va piano. E' diciassettesimo in Serie A. Ha un ritmo blando, che poi aumenta quando i giocatori devono smarcarsi, attaccare la profondità, eccetera. Quando ha palla. Invece, quando la palla ce l'hanno gli altri, non quando la perdono e la devono recuperare, ma quando iniziano l'azione gli altri e hanno il pallone gli altri, il ritmo di corsa del Napoli rispetto a quasi tutta la Serie A è inferiore. E questo è un campanello d'allarme. E' sicuramente un dato su cui Spalletti dovrà lavorare, aumentare l'intensità della fase difensiva. Andiamo avanti. Pressione applicata dagli attaccanti. E questo è un altro dato nuovo che oggi, grazie al rilevamento di dove si muovono, con che velocità si muovono i giocatori in campo e con che velocità vanno sui riferimenti avversari, con dei sistemi di intelligenza artificiale si riescono a rilevare. Ebbene, il Napoli come pressione applicata dagli attaccanti è sedicesimo. E questo dato, a proposito di Ozyman, è peggiorato molto senza Ozyman. Ozyman era un giocatore che attaccava molto, fino al portiere la squadra, la faceva salire, tanto che anche il baricentro della squadra è un po' più basso. Senza Ozyman, dice che c'entra l'Ozyman se la difesa non sale? C'entra, perché se ti impedisce agli avversari di venire fuori facilmente, dai tempo alla difesa di salire. E era minore anche lo spazio tra la linea della difesa e la linea del centro campo. Ora c'è più spazio per gli avversari in quella zona di campo. E forse è per questo che c'è la percezione che la squadra non sia abbastanza aggressiva, non sia abbastanza cattiva. Infatti, perdonami se ti interrompo, la sensazione, poi sentiamo anche gli altri, che il Napoli sia forte quando la partita la gestisce, non quando eventualmente è costretto a subirla. Un po' quello che diceva anche Alessandro, mi pare, dei giocatori delle squadre avversari che ti pressano e quant'altro. E questo riguarda gli attaccanti. Cioè 5% in meno di aggressività rispetto agli altri attaccanti della Serie A. Andiamo a vedere che succede in mezzo al campo. e l'ultimo dato che vi propongo di questo software che si chiama I'm Coach, è la pressione applicata invece nel mezzo al campo. Dove abbiamo visto, per esempio, in queste settimane delle battaglie incredibili. In questa classifica sale un po' di più, è solo dietro a Milan, Torino, Verona, le squadre che sappiamo giocano su queste caratteristiche, la Lazio di Sarri, la Fiorentina di Italiano, l'Atalanta di Gasperini. Se vedete, sono tutte squadre che hanno una certa mentalità, che giocano in un certo modo. Il Napoli qui si posiziona meglio. Da queste differenze tra come pressa il centrocampo e come pressano gli attaccanti, si cominciano a capire anche le cause. Il Napoli non è cattivo nel pressing alto. Cioè, con Mertens, soprattutto, che ha anche una certa età, e con Insigne, che ha certe caratteristiche, e con Politano, che ha certe caratteristiche, davanti non ha quella intensità di pressing che altre squadre hanno. Mentre a centrocampo comunque riesce a esprimere una certa intensità nel recupero del pallone. Ma quello che dici, secondo te, dipende molto dagli interpreti, non dall'idea. Secondo me sì. Secondo me, come dice Massimo, rientrando Anghissà, rientrando Osimen al 100% della sua condizione fisica e Colibali, che tende a aggredire alto, secondo me ritroverà quella cattiveria che oggi va cercando spallette. Più, penso, un tema di formazione contingente, perché è chiaro che se c'hai la botca, non è come avere Anghissà. Se c'hai Mertens, non è come avere Osimen. Se c'hai Gesù, non è come avere... Diciamo delle banalità, ma i numeri ci confermano che il Napoli sta facendo i miracoli. Cioè, a gennaio il Napoli ha ricreato la speranza scudetto, come diceva Ciccio, perché nella grande difficoltà, con una qualità, lo stile di gioco, il fraseggio, il non dare la palla all'avversario, ha ricostruito il suo tesoretto di punti. E oggi, se c'è una cosa che distingue il Napoli da tutte le altre squadre, è lo stile di gioco. È la dimostrazione che lo stile di gioco è quello che fa la differenza, veramente, perché anche variando gli interpreti, con lo stile di gioco, è riuscito a fare tantissimi punti in un momento delicatissimo della stagione. Per cui, una squadra che ha difficoltà oggettive nel recupero palla, nell'aggressività, nello stare corta, perché ha perso giocatori molto importanti, grazie alla sua qualità nel palleggio, e il crederci sempre. E questo si è visto bene con la Juventus. Dal primo minuto aveva impostato la partita in quel modo lì. Lì voglio fare la differenza. Se continuo a credere in questo, recuperando i giocatori, se la può ancora giocare, perché l'Inter non ha questo stile di gioco. E quindi è proprio un'alternativa completa all'Inter. Sono completamente diverse. Sono completamente diverse. In questa diversità c'è la forza del Napoli. Adriano Panconi! Grazie, grazie Adriano. Volete aggiungere questo pubblico, Spillo? Gian si è d'accordo. Sì, dopo. No, allora... Lui ha fatto... Non parliamo di Usimene, basta. Lui ha fatto la sua analisi e potrebbe anche andare bene quell'analisi lì. Però io mi chiedo, sei sicuro che Spalletti si rivolga a quelle situazioni quando dice che vorrebbe una squadra più cattiva? Perché il Napoli vince le partite quando gioca bene, pulite. Non vince quelle sport. Ciccio! Lo Spalletti lo dice perché si è arrabbiato perché il Napoli a un certo punto si è difeso. quando ha preso il gol e fino alla fine del primo tempo si è difeso. Con la Salernitana al primo tempo se non giochi bene avanti è tornato indietro. Invece di essere aggressivo si è fermato. E' quello che si è arrabbiato Spalletti. Si è arrabbiato perché il primo tempo con la Salernitana non è stato... Ma proprio perché è il limite del Napoli. Se il Napoli si ferma rischia molto di essere... Grinta, ci vuole più velocità, ci vuole più voglia. Ci vogliono caratteristiche diverse. Se hai tutti i giocatori, tecnici e piccolini è difficile che riesci a avere quella aggressività. Ma è un secondo tempo. Però è un botto che è bravo ma non c'è la mani. Perché è un secondo tempo? E poi secondo me c'è un altro tempo no. C'è un altro tempo. Ecco perché lui dice che vuole più cattivere. Adriano scusami se tu trovi una Salernitana ridotta così... Gli ottacosti non devi essere... Ma non devi essere... Ma infatti è vero. Non c'è vita. No, ma devi cambiare. Però se tu trovi una Salernitana così non puoi essere così lezioso. Devi essere più di sostanza. Perché comunque bastava buttare una palla là, tra virgolette, anche una seconda palla. Ogni volta che la buttate là... Scusa, creare le occasioni da bo. Guarda che se c'era un'altra squadra ieri in una partita non era tanto bella come la giocata al Napoli il primo tempo. Perché ha dato coraggio alla squadra... Se vogliamo essere credibili quando parliamo degli errori arbitrali il rigore su Elmas è molto generoso. No, ma ci arriviamo. Poi credibili quando credibili. No, ma Spalletti fa bene ad alzare la tensione e pretendere di più. Per la settimana prossima un altro studio perché sono convinto di un altro deficit che nelle ultime partite, soprattutto da quando non c'è Usimen, ripeto, il Napoli ha palesato. Il fatto che arriva al cross... Non si fa i gratis queste cose a Spalletti che sono tutte triste. Il Napoli è una squadra... Scusa, il Napoli è una squadra... No, volevo farti una domanda però... No, scusami... No, 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 non ho cambiato... Non ho ricordato il tempo. Perché lui sostiene... Mai al tempo. No, lui sostiene... No, 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 non ho cambiato il discorso, arriva. Lui sostiene... Io ho portato la domanda per... Scusami... Oh, mi ascolti? Adria, ascoltate, Alessandro. Adria, ascoltate, tu sostieni che con Usimen il Napoli fa un pressing ultra-offensivo, senza Usimen lo fa offensivo, tanto per mettere, se posso, un po' di ordine. Sì, ok? Ma siamo sicuri che il Napoli è una squadra camaleontica, è una squadra che è difficile da prendere. Perché se tu fai il pressing offensivo con le caratteristiche di Usimen, sarebbe ancora meglio. Perché poi lui si trova quegli spazi di cui parlava anche Maurizio per andarti a far male. No, ma lui diceva il Napoli che è offensivo, non gli altri. No, non posso dire... Ultra-offensivo. Sì, no, ma il Napoli non negli avversari. Colo Gimè, il Napoli... Non ve lo dico lo studio che voglio fare. No, lo studio... Non ve lo meritate. No, no, veramente non se lo merita lui. Non se lo merita Renica che... No, noi che centriamo. C'è una cogestione... No, è Renica. Renica va fuori tempo. No, non va fuori tempo. Stavo a tempo su quello che ha detto lui. Comunque lo ha finito. Ma lo ha finito. Ma lo ha finito. Traduco quello che dice Renica. Dice... Se Usimen attacca troppo alto, gli altri si schiacciano e poi non ha quello spazio per attaccare la profondità. Questo dice. Quindi è meglio se il Napoli rientra e fa giocare gli avversari. L'ho messa così, non ho detto che è meglio. L'ho messa così come alternativista. Invece devo dire questo, che la mia impressione è che quando il Napoli arriva sulle facce, ci arriva spesso, poi non ha nessun'area di rigore. C'è solo Mertens. Lo studio che voglio fare è paragonare quando la palla arriva in zona cross, quanti giocatori hanno le altre grandi, diciamo l'Inter e il Milan soprattutto, dentro l'area di rigore, quanti giocatori dentro l'area di rigore riesce a portare il Napoli. Perché lì secondo me c'è un altro concetto molto legato alla cattiveria. La cattiveria è anche la decisione nel volere andare a fare gol, nell'entrare dentro l'area. Poi penso a Barella, no? Perché fa tanti gol? Perché cazzo? La cazzimma, si inserisce, va dentro. Secondo me questi inserimenti, chiaramente il Napoli ce n'ha meno. Vabbè, altre caratteristiche. Zelischi, se può, sta a limitare il rigore. Lobotka non si butta. Fabian non si butta. Alla fine... Lo usano che si è fermato. Qualche volta lo usano. Fine. Fine. Vi devo per forza fermare un attimo. Noi parliamo tra pochissimi, altrimenti facciamo davvero tanto ritardo. Abbiamo i risultati dell'Instant Quiz, non possiamo non darli. Sì, grazie innanzitutto ai tantissimi che ci hanno votato. con il 74% dei voti, i tifosi del Napoli ci dicono che la squadra non ha bisogno di un ulteriore attaccante, che quindi Vittor Osimè va bene. Però, Spillo, hai avuto un 26% di tifosi che sono d'accordo con te, come Mario Daniello, come Pasquale Sferragatta, che ci scrivono, Spillo ha ragione, Osimè non riesce a fare 10 partite di fila. Certo, ma io non è che lo dico perché... Mi ha saltato un terzo su 60. Non è un attacco a Osimè, ma io ho notato che il Napoli potrebbe essere molto più avanti in classifica, ma tutte le squadre che sono avanti in classifica hanno un attaccante forte che segna. Il Napoli purtroppo non ce l'ha. Però è stato anche sfortunato. Spillo, in questo momento hai il 24%, secondo me. Attenzione, GLG Gruppa, Gennaretta.it. Allora, a proposito di cattiveria agonistica, volevi aggiungere qualcosa? Sia te, Ciccio, che Alessandro. Siamo passati da cambio al centroavanti a cambiare la bolletta, quindi c'è una logica. C'è una logica. Grande Ciccio. Possono essere anche autori tuoi, eh? Vero, Polide. Ciccio soprattutto. No. La mancanza di gravità, ma dipende pure dagli interpreti. Cioè, se hai tutti i piccoletti, tu dici che arrivi in un'area di rigore e non danni cosa, chi lo devono dare il cross? Se ci sono i piccoletti, il Napoli deve arrivare col pallone in un'area di rigore e importa. non può fare altrimenti. Come ha fatto Emma? Ha preso la palla per quanto tu sei andato? Solo così puoi giocare. Però è limitante, eh? È limitante, ma è una caratteristica. Ma se pensi che sui calci piazzati sono andati Rachmani e O'Gesus che hanno segnato di piede tutte e due. Vabbè, rimbalzano, parlo a parlo. Lo so. Quindi sono caratteristiche. Alessandro, e poi vorrei parlare della sfida scritta? Quella piccola problematica di ritire l'area e di trovare il colpitore di testa era risolta con Osimè. Perché, ricordiamoci anche i gol che ha fatto Osimè, impressionanti, quello col Torino, quello con Leicester. Quindi, da quel punto di vista lì, adesso però, dovremo vedere, dopo l'infortunio che ha avuto, se sarà ancora così efficace nei colpi di testa. Perché è vero che qualche volta la partita la devi risolvere in quella maniera lì, come l'ha risolta Zeiko con l'Inter. Quindi, questi sono i problemi che troverà il Napoli. Però è anche vero che, ha i difensori, adesso che sta segnando che hanno il vizio del gol. Perché, Juan Jesus, Rachmani, bravissimo, e anche Koulibaly è un altro che si fa rispettare. Quindi, ce la possiamo giocare fin in fondo. Io ho due dati importanti. Scusami, Spillo, io ho due dati importanti. Il primo, Osimè, era così cattivo, perché non gli è passata la palla politano, che lui aveva, se segnava, aveva l'esultanza belle, che aveva già la maschera di Batman, che aveva un mantello che avrebbe girato tutto lo stadio tipo Superman supereroe. E non l'ha potuto fare e si è arrabbiata. La seconda, sull'obotica, che sui passaggi è precisissimo. C'è un 97-98% di passaggi precisi, ed è preciso in tutto, perché c'è la macchina più grande ed avrà uno passaggio a Mertens, a Fabian Ruiz, a Insigne, e Portiletta in D'Agassi. Questo per dire che anche io ho dei dati importanti. Dei dati importanti. È un po' come Cicciumarod e Sostio, che ci portano, c'erano un sacco di passaggi, ci portano in qua e là per la città. Comunque, il Napoli, nonostante, mi sembra che sia il secondo attacco più forte di questo campionato. No, il quinto attacco è la miglior difesa. È il quinto attacco. Il quinto attacco è la miglior difesa. È la miglior difesa però. Scusa, se è stato metà trasmissione a dire che manca il centro avanti, che il Napoli non segna, poi mi viene a dire il secondo attacco. È diverso. Sto scherzando? Sto scherzando. Sto scherzando. La differenza che c'è rispetto ad altre squadre è che il Napoli segnano molto anche i centrocampisti. Sì, sono più distribuiti i gol. Ha fatto cinque gol Fabian Ruiz perché ne ha fatti cinque anche Insigne, perché Zilinski ha fatto i suoi gol. L'idea di calcio che ha Spalletti è un'idea di calcio collettivo. Noi in Italia spesso sbagliamo perché almeno noi che facciamo parte di media... Però secondo me sarebbe contento se gli segnassero qualche gol in più, perché comunque lui l'ha creata questa situazione. Però non si può dire che questa sia una squadra che segna poco. No, 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 assolutamente. C'è una squadra che segna e subisce poco perché ha la miglior difesa del campionato. Quindi vuol dire che noi spesso perdiamo tempo individuando solamente in uno, in un nome, quello che è il protagonista, che è quello, il fautore, il Deus es Machina. Non è così. A certi livelli non puoi prescindere dalla qualità del gioco. Ma certo. Te guarda Fabian. Fabian si è fatto male che il Napoli vinceva 2-0 col Sassuolo e da lì è cominciato ad andare male. Ma certo. Anche il discorso che facevamo prima sulla fisicità. Avendo lo stile di gioco, rientrando adesso oltre a Fabian, altre due o tre giocatori, veramente il Napoli ha la squadra per giocarsi le sue... Della fisicità. Nel momento in cui ti rientrano Coulibaly, Anghissa, Fabian Ruiz può fare un lavoro di un certo tipo anche sulle palle laterali, sulle punizioni, sui calci d'angolo. Sai quando tu cominci a portare in area 6-7 giocatori che sono sopra il metro 85? Allora sei lì che fai la differenza. Perché se ci va solamente Osimè e gli altri sono tutti piccoletti, Demme, Insigne, Politano, Zilinski, tutta gente che è di abilità, ma non è di fisicità. Ma se ci porti Anghissa, Fabian Ruiz, Coulibaly, sulle palle inattive la differenza... Comunque un dato di fatto è che il Napoli non ha il migliore attacco ma ha la miglior difesa, i campionati si vincono in Italia spesso e volentieri quando è la miglior difesa. Con la miglior difesa. Non sarà un allenatore dei tempi... Non sarà un allenatore dei tempi moderni, però rimane... Perché guarda, adesso noi stiamo esaltando giustamente il gioco del Napoli, piccoletti, straseggio, tutto il quale. Ma il Napoli, comunque, i numeri lo dicono, la sua forza è la difesa, cioè che non prende i gol. E già parti da 0-0 e non da 1-0 per gli avversari, che non è poco, eh. Sembrano... Sì, ma quando hai il 75% di possesso palla, ce lo insegnava Lidl, ma non è facile prendere i gol, eh? È sempre una qualità, è sempre una qualità. C'è qualcuno che ha informazione che dice che il possesso palla non serve a niente. Il possesso palla serve si è compagliato dai valori prestativi dei giocatori, come dicono, quello che dicono che se ne intende, no? Però poi fai una partita come Milan-Juventus, cioè i giocatori, ma se poi lo insegna a giocare a calcio, giocano male anche i giocatori veri, eh? La cosa più bella da adesso in avanti è che veramente il Napoli gli rientrano quei tre giocatori. È una bella lotta. Veramente non può più sbagliare, perché sta facendo bene con quei tre giocatori, dovrebbe veramente dominare le partite e vincerele. Tra un po' capiremo anche i punteggi, i punti degli scudetti passati e capiremo il Napoli quanto ha totalizzato nel giornale d'andata fino adesso, insomma faremo una media, così ci divertiremo anche a capire il campionato a quanti punti si vince. Comunque questa è la... Intanto la forza in difesa, Gennaro. Il Napoli resta tra le migliori difese d'Europa, la terza tra i principali campionati europei, da aggiornare soprattutto i gol in campionato dei difensori. Sono sette, perché ieri si è giunto anche Juan Jesus, l'avevano fatto in passato anche Koulibaly e Rachmani e per la seconda volta in stagione segnano entrambi i centrali, era successo già ad Udine e per di più per la terza volta in stagione ha segnato quattro gol in una partita, nessuna squadra di Serie A ha fatto altrettanto. Bene, bene, bene. Allora, vediamo le pagelle di ieri col migliorare, così insomma... Sono proprio curioso, perché c'è una cosa che mi sta qui. Vediamo. Meret 7. Meret 7. Meret 7. Vediamo, mettiamo nel campo dietro e facciamo apparire tutti i nostri numeri delle pagelle perché abbiamo dato ben sei 6 a Meret. Non ho capito perché quando Spina non toccava palla perché il Napoli dominava 5 e mezzo. Meret 6. Aspetta, Di Lorenzo 6. Meret non ha toccato palla, 6. Perché? Un attimo. Un attimo. Rachmani 6, One Jesus 6 e mezzo, Mario Ruiz 6, Fabia Ruiz 6 e mezzo, Lobotica 6, Un punto in meno per Lozano 5, Zerisky 6 e mezzo, così come Elmas, come Mertens 6, per Insigne, sufficiente ancora per Osiman, Politano 6, Spalletti 6 e mezzo. Allora, Bacconi, che cosa dicevi? Perché non è possibile sei la sufficienza per me. era una battuta. Invece, secondo me, vedendo questi voti, mi sembra a basso Elmas, che è stato decisivo. È stato uno dei migliori. È un giocatore che non piace. Ed è stato uno dei migliori? Però, secondo me, meritava forse qualcosa in più degli altri. Perché è stato il migliore in campo? Per me sì. Vediamo anche per il nostro pubblico. MVP. Ma anche perché Elmas si sta rilevando un giocatore sempre più determinato. Poi è utile, perché siamo tutti nuovi. Vediamo l'MVP. Ecco, migliore in campo a Elmas, con il 26%, quindi anche per i nostri amici tifosi che hanno votato sull'app. Sì, grazie innanzitutto per i tantissimi voti che ci sono arrivati dopo la partita di ieri. A dispetto dei gol segnati, Elmas ha guadagnato un punto percentuale in più di Mertens, e poi il terzo in classifica è stato Stanislav Lobotka. Elmas. Sì, su Elmas siamo d'accordo. Anche perché lui ha, sembra strano, perché non si vedeva prima, la capacità di superare l'uomo nel uno contro uno. In velocità. Che non è una cosa da poco, perché anche col Bologna, ha fatto l'azione del primo gol, anche ha iniziato quella del secondo, ma il primo ha scartato l'uomo, poi ha messo una bellissima palla. Sì, in velocità, indubbiamente. Quindi, un giocatore che sta crescendo molto diventa interessante. Negli ultimi 20 metri sono quelli i giocatori che oggi, vedendo anche il calcio internazionale, fanno la differenza. Quelli che hanno la capacità di vincere l'uomo contro l'uomo, perché altrimenti trovi delle squadre talmente organizzate che continui a passare la palla indietro. Non credo. E la palla continua a passare indietro e c'è un grande possesso, ma è un possesso difensivo, non un possesso offensivo. Se invece hai dei giocatori abili nell'uomo contro l'uomo, sono quelli che fanno vincere le partite. Io vi chiedo, però, abbiamo messo, mi sa, 5 a seggiore in campo, Lozano? Sì, l'ho giocato bene. Sì, sei d'accordo Adriano? mi ha fatto arrabbiare, specialmente durante il primo tempo, faceva scelte sbagliate. Io cercherei, quando si fanno le pagelle, di enfatizzare un po' più le differenze tra i giocatori. A mio avviso, ci sono due giocatori che sono decisivi in questa partita. uno è Fabian, l'altro è Elmas. E per me meritavano il 7, erano sopra gli altri. Avresti marcato la differenza? No, no, guardando le pagelle e vedendo la partita, sicuramente Fabian meritava qualcosa in più. È un giocatore che si è inserito bene, è un giocatore che serve da guida a questa squadra, è un giocatore che serve sia nella fase offensiva che in quella difensiva, è uno che organizza. mi sembra che ha avuto un cambiamento positivo incredibile. Poi posso dire, perché non viene mai nominato, io darei anche sempre 7 a Di Lorenzo, perché ne parlano poco, ma questo ragazzo qui gioca 50 partite, ma domenica, mercoledì domenica, sempre allo stesso livello, sempre a grande livello. È il classico giocatore che dà continuità di prestazione senza mai sbagliartene una. poi è d'acciaio perché affidabile, è una cosa che per me è uno dei riflessori più forti in quel ruolo d'Europa. mi ha entusiasmato, perché su quella fascia lì era in forma, poi evidentemente giocava anche con una squadra che erano tutti in forma, ma quando partiva non lo fermava nessuno, c'è un passo a una gamba veramente importante. ma c'è sempre, perché anche nei fraseggi c'è sempre luscito. E poi è anche abbastanza tecnico, questo c'è sempre, facciamo le cose che non ci facciamo male, perché è un patrimonio del Napoli, ma è sempre lì, cioè gli altri, con i balì manca qualche partita, Osimè come tu manca qualche partita, anche il Sassi fa male, questo è un punto di riferimento preciso, costante nella squadra. Parliamo dei giocatori del Napoli, dicendo, alla fine se dobbiamo parlare male di qualcuno, ma di chi parli? sono tutti i giocatori che... Dio Simè! Dio Simè! Dio Simè! Mi fai... allora... Mi fai... Mi fai... Mi fai... Mi fai parlare! Certo che... Io non ho detto, non ho parlato! Dio Simè! Ti stiamo prendendo in giro, nel senso che lo sappiamo, ed hai più volte detto il tuo concetto su Osimè! Io... Basta ti prendo! Abbiamo capito! Cambiamo argomento! Cambiamo argomento! A parte... A parte... A parte... A parte... A parte... Però... Io vedo per esempio... Brahmami lì... Rachmani! 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 Certo, ha fatto un miglioramento incredibile! Iesus! Certo, è un giocatore che sta facendo bene! Certo, sono tutti giocatori recuperati! Sono tutti giocatori che in questo momento stanno rendendo tanto! E quindi... Ci ha mandato un messaggio... Osimè! Osimè ha scritto Marolda! Ha detto il prossimo gol lo dedico a te! Invidiamolo! Invidiamolo! Un lunedì! Un lunedì! Un lunedì! Un lunedì! Un lunedì! Un lunedì! Lui perché... Ci teneva particolarmente... E... A fare un gran saluto a... A Gianni in questo programma! Abbiamo in collegamento?... Enrico Fedele, buonasera! Ciao Enrico! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti Albert siitä! Mi piace questa stagione perché mi sa che forse è la prima volta. Sì, è la prima volta. È la prima volta e mi seguo, mi seguo sempre, perché mi sono molto affezionato e poi proprio gli studi di questo fatto di Gianni, che io ho saputo poche ore dopo che era finito, perché mi ero sentito, ma lo farò a vedere il mattino e la offre cose. E quindi mi ero sembrato veroce, poi mi hai fatto rivedere quella cosa, che abbiamo fatto per circa 10 anni, tu lo sai, ma come no? Perché ho cominciato ad avere 3,4, 4 oggi, sono un persino, a penare le tue, no? E poi mi sono fatto con Gianni perché io ho detto che il suo padre ha un piccolo ghioccio, ma lui ha un piccolo ghioccio, perché il suo padre è un piccolo ghioccio, è un piccolo ghioccio, in contatto, la roba e presa, la commessa, la unicilità, sta bene, sta bene, e vi dico solo quei minuti, fai stare, postita, non ho detto oggi, che ho detto veramente, proprio, per risposta, ma per risposta, per risposta, per risposta, a prima di una, per risposta, e il direttore della Sardegna, stato che arriva alle 11, alle 2, alle 4, la scuola non arriva a la, e c'è il procetto, fai, e c'è, fai, Cagli di Naccio, nella sua polizia, aveva fatto che c'era un pismo un po' caldo, all'interno dello spogliatoio? Nello spogliatoio, sapete che ha fatto, presentato a me, una partita in pullman, con un giocatore già, con un giocatore, già vestito, già pronti per giocare, era forbissimo, davvero, 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 ti sa come era come allenatore, quante ne ha combinate, eh sì, questa è una delle tante, e lui sta là, e con una proprietà, e facciamo che c'era più, e dopo faccio un muro, e lui, non si sente, non si sente, Enrico, aspetta, fermiamoci, perché se no non si riesce a capire niente, allora cerchiamo di ristabilire un attimo il collegamento con te, perché sentiamo la voce che va e viene, ok? Quindi cerchiamo di ristabilire un attimo il collegamento, intanto vorrei andare da Gennaro, e parlare del prossimo tema, così sentiamo su questo anche Enrico Fedele, perché è su quella che è la vera e propria lotta a Scudetto, no Max? Come dicevi tu, con questi nuovi innessi, che per noi, con i rinforzi, e quindi gli arrivi del Napoli, si può lottare per lo Scudetto. Abbiamo provato a fare un po' gli insegnanti di matematica, o gli studenti di matematica, se riusciamo con la regia a vedere la nostra slide, quello che è stato l'andazzo fino al girone, ovviamente al giro di Boa di questo campionato, e poi la situazione di oggi, per capire anche come Inter e Napoli potrebbero arrivare alla fine del campionato. Vi anticipo che, in base a quello che è successo lo scorso anno, quindi 91 punti dell'Inter, i nerazzurri sono perfettamente in linea, perché hanno in questo momento 53 punti in 22 partite, 2,4 punti di media, quindi proiettandosi verso la fine del campionato, arriverebbero esattamente a 91. Il Napoli invece ha 2,1 punti di media, e arriverebbe 10 punti dietro, quindi a 81 punti. Per riacciuffare l'Inter, come da slide, servirebbe passare da 2,1, che è la media di oggi, almeno a 2,7, che sarebbe il minimo per poter arrivare quantomeno a quei 91 punti che sembrano essere. 2,8. 2,7 e 4. Perché ne fa 92 punti, non 91. Eh, 91, certo. Arrotonnato, ok. Allora, facciamoli questi due calcoli, dai, facciamo un giro proprio su questo. Intanto datemi l'occhetta alla regia, e così sentiamo anche Rigo Federe su questo tema. Mi sembra che l'assunzione di questo calcolo, ossia che l'Inter continui con questo rendimento, è chiaro che se l'Inter continua con questo rendimento, vince il campionato, però i segnali che ha trasmesso l'Inter nel mese di gennaio, e soprattutto il fatto che poi ripartirà con la Champions, lascia un po' trapelare un affaticamento, una difficoltà a esprimere la stessa intensità di gioco, e superiorità in campo che va espresso fino a dicembre. Per cui, secondo me, queste proiezioni andrebbero rifatte, ipotizzando che l'Inter, magari invece che fare 2-4, fa 2-1. No, non lo puoi fare. Come non lo puoi fare? Non lo puoi fare in media, non lo puoi fare in aritmetica. Che fa? Aritmetica la fa come molto. Senti, ma invece non si fa una divisione a Napoli che dico. Si fa delle assunzioni, e ti dico, mettiamo che da febbraio fino a fine campionato l'Inter fa 2-1. Vediamo quanti punti vengono, 85, ok. Il Napoli quanto deve fare per arrivare a 85? Oggi quanto ha? 2-1? Deve fare 2-4. Può il Napoli fare 2-4? Sì, può farlo. Per cui il Napoli deve fare il suo, e fare 2-4. E poi è chiaro che deve anche un po' pensare che gli altri... Uno l'interno, tutti si rumbano. Bravo! Vorrei dare anche un altro, un ulteriore elemento di valutazione, che è quello che noi facciamo quest'anno una proiezione su un girone di andata, con un giro di ritorno che non è come il girone di andata. Il che vuol dire che la concentrazione di alcune partite big match oppure no, potrebbero fare una differenza che noi non siamo abituati a calcolare. Ok? No, perché anche questo è un elemento di diversità nel valutare. Poi è chiaro... Facciamo un giro? Anche la mancanza di pubblico può essere un altro elemento. Sì, che però vorrei dire che se no... Questa non è una notizia, è un dato perché magari c'è un po' di confusione. Nel fine della giostra c'è una partita, Napoli-Inter, che la devi vincere intanto per ricominciare. Volevo dire, a proposito del pubblico, che se non intervenisse un decreto da qui alla ripresa del campionato, o una decisione univoca della Lega di Serie A, alla ripresa del campionato, si ritorna alla 50.000. Non so. Vai, 50%. 50%. Ecco, no, perché quella dei 5.000 è una decisione reale. Maurizio Pistocchi e poi abbiamo ristabilito la linea con Enrico Vedele, quindi sentiremo anche lui sul tema della corsa Scudetto. Vai. Avevamo già parlato in puntate scorse proprio della media punti di Inter e di Napoli. È ovvio che deve crescere la media punti del Napoli e deve leggermente calare quella dell'Inter. Sono numeri. Il Napoli, a mio modo di vedere, ha le possibilità di fare un girone di ritorno ancora migliore rispetto a quello che ha fatto nel girone d'andata, per i tanti motivi che abbiamo precisato. Aggiungo anche il fatto che ha migliorato l'idea di gioco nel collettivo. Cioè, sono cresciuti dei giocatori che prima non erano identificati come protagonisti. Parlo di Juan Jesús, difensivamente, ma parlo anche di Rachmani, parlo di Lobočka, che secondo me è diventato un giocatore importantissimo perché per il calcio di Spalletti, come già aveva fatto all'Inter con Brozovic, un giocatore che pulisce il pallone in quella zona determinata del campo, che ha facilità di dribbling, ma anche di gestione della palla, passaggi lunghi, passaggi corti, è un giocatore fondamentale. Quindi sono convintissimo che Napoli farà una seconda parte del campionato migliore della prima parte. Passaggi corti, perché passaggi lunghi. Lunghi, lunghi, lunghi. Sì. Io ho visto che li sa fare, ma nell'idea di gioco del Napoli c'è più, naturalmente, la gestione della palla con passaggi aereo. No, perché non ha l'attitudine di gioco. Non lo interrompiamo. Vai. Allora, no, Paolo dice, io sono d'accordo con Alto Belli. Allora, per un attimo ho pensato sarà mica il procuratore di Osipan. No, 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 no. Magari, magari. No, no, no. No, scherzo. No, 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 no. Scherzo. Alto Belli è un attreta prestato al calcio. È uno con una forza fisica unica. Io dissi all'inizio deve fare due ore e mezzo di muro, ma quello come neanche il pane non c'è. E' un giocatore che ha uno strapotere fisico e che non c'è. Ma il Napoli con il non sarà mai un giocatore da molti voli o grandi voli. Ma bisogna che il Bluff faccia voli. E per no gain pochi voli. E' inutile che non lo volete far sentire perché si sente male perché sta parlando. Vi ricolleghiamo subito bene. Cerchiamo di ricollegarci bene. Queste qua usate. non sono buone. Se poter vincere un campionato devi fare il triplo dei gol che subisci. Ok? Se il Napoli vingia 32-33 gol ne deve fare 70-75. E si trova. In media si trova adesso. Chi li fa? A domanda risponde? Ha perfettamente ragione. Per vincere i campionati basta guardare gli anni indietro 80-90. Delle volte sono arrivati anche a 100. In Napoli è a 43. Allora siamo già oltre il genone d'andata. A quanto può arrivare se va avanti così? 70? Per vincere il campionato bisognerebbe segnare di più. Allora la classifica di Bacco. c'è una classifica che tiene conto dei minuti giocati perché se no non si possono paragonare no? Le cose. Ok. Ci sono due giocatori che sono fuori 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 concorso fuori concorso che sono Immobile e Vlaovic che hanno più di 0,80 cioè quasi un gol ogni 90 minuti. Tolti quelli si schiacciano i valori tra 0,5 e 0,3 e ci sono dentro tutti. C'è dentro Geko che ha 0,42 e c'è dentro Zimè che ha 0,38. Cioè non stiamo parlando di dati molto diversi. È chiaro che se uno gioca 15 partite e le altre ne gioca due è inutile che ti incazzi. Per fortuna non ti fanno parlare. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? 15 partite e non stavate. E non stavano in Umbra e non stavano. In Umbra. Ma ci devo parlare su la migliore bella. Ma ci devo parlare che io posso parlare. L'occhia finestra mi prego con Enrico e la voce di Polde. per favore mi date la doppia finestra? Sì, sono piaciuto doppiaggio live. Bisogna mettere Enrico e Alessandro. Enrico allora noi purtroppo leggiamo vediamo solo il labiale non riusciamo a capirci perché abbiamo ecco un problema di connessione probabilmente è stato tirato. No, io credo che... No, mi chiamate ma non lascia arrivato. Ecco il problema non è di collegamento ma è di saturazione dell'audio e delle cuffie che ha Enrico ragazzi io non faccio il tecnico però insomma un minimo vai Enrico parla parla se no ti piace a te una che ne ho fatto vai sì, sì, sì ti sentiamo sì, sì le cuffie te rocche vai le cuffie false Enrico senza cuffie è buona ma togli ste cuffie allora prima che ci ricolleghiamo mi posso dire una cosa? si si ma prima finisci di parlare di altobelli dai allora non possiamo se lo interrompiamo non usciamo più finiamo a mezzanotte come Enrico Enrico aspetta aspetta prendiamo un attimo in mano la trasmissione che ci stiamo perdendo fermi fermi ci stiamo un attimo perdendo Enrico allora io ti chiedo ti invito ufficialmente subito dopo la sosta ad intervenire qui al velo del calcio ti mandiamo dei tecnici a casa o quantomeno risolviamo questi problemi e parliamo appunto con te di quello che vuoi va bene? ciao Enrico grazie ciao ciao no perché così scusate no no scusate perché dobbiamo andare avanti non abbiamo più tempo giusto due minuti Alessandro è arrivato il momento di una nuova rubrica del bello del calcio è un ospite contro tutti ma non contro allora potrete fare anche voi le vostre domande ma in realtà le domande le fa il nostro pubblico perché i veri protagonisti sono i tifosi e allora noi questa mattina abbiamo inserito un posto sulla nostra pagina facebook fai le tue domande a Maurizio Pistocchi quindi qui al centro che dovrà rispondere alle domande non è stata richiesta la mia autorizzazione non dico però lo faccio lo stesso scherzo io ho visto le domande scherzo vai tranquillo guarda sai Massimo che io non mi spavento non mi spavento per so che di niente allora la tua immagine sarà la tua immagine è stata utilizzata già in queste ore quindi te la vogliamo rovinare completamente con questa slide che ti abbiamo dedicato guarda la slide dietro di te farò del mio meglio il bello del calcio presenta posto che brutto Demo ho visto nulla capito a disposizione Maurizio si presta a questo momento quindi prima domanda io lo accompagnerei anche con un tappeto musicale questo momento proprio allora domanda numero 1 Dem98 ti scrive se l'Inter perde a Milano si riapre la sfida Scudetto? penso che vogliano dire se l'Inter perde il derby dopo aver visto Milan e Juventus ieri sera sono convinto che Napoli sia il vero avversario dell'Inter le altre due mi sembrano tutte e due in ritardo il Milan ha peggiorato anche l'idea di calcio era una squadra brillante inizio di campionato adesso è una squadra che fa fatica e forse anche l'età di alcuni giocatori condiziona le prestazioni del Milan in questo momento sai quando hai il gioco un centravanti di 40 anni fai un po' fatica ad andare in profondità esatto esatto adesso ti faccio la seconda domanda che invece è il tema che ne abbiamo già trattato ne abbiamo già parlato meglio il Napoli con Mertens o con Osimen Enzo prof 85 puoi anche dire con Pedania sono due squadre diverse perché con Osimen giochi più sulla profondità con Mertens giochi di più del fraseggio dimostra il fatto che il Napoli ha fatto tanti punti anche senza Osimen quindi ha fatto tanti punti con Mertens e a mio modo di vedere sono due giocatori che sono bravissimi tutti e due e anche compatibili nel senso che potrebbero giocare insieme Mertens 10 metri dietro a Osimen andiamo avanti domanda numero 3 a due anni di distanza è valsa la pena spendere per Lozano 42 milioni e Osimen 50 milioni questa è una bella domanda dunque Lozano io l'avevo seguito a lungo quando giocava in Olanda nel PSV e mi era molto piaciuto da esterno di sinistra perché lui veniva dentro con i tagli e un giocatore veloce a Napoli non ha fatto come ci si aspettava finora anche perché probabilmente nella sua posizione c'era un certo Insigne che era un giocatore intoccabile dell'11 del Napoli quindi scusa che ti interrompo pensi che anche il mancato rinnovo del contratto di Insigne da parte della società è anche in previsione del fatto che Lozano può prendere il suo posto? io penso che Insigne abbia fatto lui la scelta ha avuto un'opportunità no ma non dico tanto se è la scelta giusta se Lozano può prendere il posto di Insigne era stato preso per questo perché Insigne sembrava dovesse andare via era stato preso Lozano Lozano ha sempre giocato in quella posizione a sinistra a largo nel 4-3-3 quindi quello è il suo ruolo certo domanda numero 4 perché Sanremo sarà al completo e gli stadi che sono all'aperto hanno solo 5.000 persone si chiede Marco Franco è una bella domanda ne parlavo proprio qualche giorno fa e contestavo il fatto che non si utilizza il criterio della capienza cioè su uno stadio come San Siro che ha 80.000 posti tu devi osservare un distanziamento di un metro tra una persona e l'altra e all'aperto il tema non è quanta gente è nello stadio sono i flussi esatto e per portare 50.000 persone allo stadio devi comunque mettere 50.000 persone in metro o in macchina benissimo ma tutte le mattine la gente va a lavorare e tutte le mattine la gente sale in metro sale nei bus sale in macchina tutte le mattine quindi quello che è importante è protezioni mascherine distanziamento se uno osserva questi principi può andare a lavorare a scuola e allo stadio bisogna spiegarlo la speranza è a Draghi speriamo Luigi Sceli ti chiede che percentuale ha il Napoli di entrare in Champions e di vincere lo scudetto percentuale di andare in Champions secondo me è alta 70 anche 75 di vincere lo scudetto 40 45 però ce l'ha lì 55 inter perché 40 perché dico 55 inter 45 napoli poi tra due domeniche vediamo ancora come stanno le percentuali dopo che ci sarà stata napoli inter questo è un momento tanto atteso perché leggo la parolina arbitri attenzione attenzione quanto hanno inciso gli arbitri fin qui per le squadre di vertice Salvatore Mari la classe arbitrale italiana in questo momento è una classe arbitrale poco affidabile abbiamo visto anche nelle partite di questo weekend la gestione Nicchi non ci ha lasciato degli arbitri di un grande valore lo dimostra il fatto che per gli ultimi europei c'era un solo arbitri italiano convocato Orsato e gli altri erano diciamo stati trascurati stanno cercando di fare un lavoro di rinnovamento ma a mio modo di vedere passa tutto anche attraverso una gestione della tecnologia che in questo momento è sbagliata guardavo per esempio ieri nella partita a Milano Juventus ci sono state delle situazioni di fuorigioco ma chiarissime evidentissime nel quale il guardaline non sbandiera lasciano giocare finché arrivano vicini alla porta e il difensore in due casi una volta uno del Milan su Morata una volta uno della Juve su León fa degli interventi da dietro pericolosi e se lì si fa male un giocatore i guardaline non sbandierano più i guardaline aspettano di vedere cosa succede col VAR e il protocollo del VAR in questo momento non aiuta gli arbitri perché il protocollo del VAR dice posso intervenire solo in caso di chiaro e evidente errore ma chi decide qual è il chiaro e evidente errore l'arbitro di campo o l'arbitro del VAR perché tante cose che per l'arbitro di campo non sono chiare e evidente errore magari per quello del VAR sono chiare e evidente errore e viceversa parlavo oggi con Spillo proprio anche del fatto che a mio modo di vedere agli arbitri manca un po' la consulenza di qualche ex giocatore su alcune dinamiche di gioco un ex giocatore può dire spiegare agli arbitri perché un determinante episodio non è fallo e perché un altro episodio invece è fallo loro hanno il protocollo e il protocollo tanta volta non ti aiuta la crescita in tutti i lavori avviene se c'è qualcuno che ti insegna quali sono gli errori e ti chiarisce la casistica cioè si è discusso per esempio nel weekend su un episodio che riguarda la partita di Venezia un presunto fallo di Gekono è presunto è una gomitata ma no non è una gomitata chiedi a un attaccante un attaccante lui fa una corsa scusa finisco per favore lui fa una corsa una corsa laterale per prendere una palla di testa in anticipo è davanti nettamente il movimento del salto prevede il movimento delle braccia che si allargano non si può era più un gomito no il braccio è mano aperta e il braccio chiesa no non può essere mai fatto mai ma io ho visto gente ammunita sono d'accordo con te io però ho visto io però ho visto ammunizioni per le stesse cose anche meno ho visto ammunizioni in altre partite ma per questo è il momento non conoscono non conoscono parecchi arbitri non è il problema Zeko il problema è degli arbitri che prendono decisioni diverse non conoscono le dinamiche le dinamiche che sono fondamentali come dicevi tu nel momento che Zeko guarda solo la palla le mani danno equilibrio le usa per prendere la palla non è la regola attuata in questo campionato no no la regola è quella no no non è la regola attuata dagli altri ah da attuata gli arbitri non sanno cosa fare decidono a caso hai detto niente io la scorsa settimana ho fatto una domanda nel caso di una lotta per lo scudetto vi sentirete tutelati dagli arbitri dal bar e infatti no 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 non è vero io ho detto di no è vero è vero tu non c'eri però le ho detto di no grazie a Maurizio Pistotti grazie Maurizio grazie a Maurizio grazie a Maurizio vedi presenta Game of Pistock chissà chissà settimana prossima invece ci sarà promosso se meno meno se meno meno quanto gli vediamo noi ma scusa ma vorrei chiedere al Fumarola Sound vi serve questa per favore fate entrare Peppe Di Franco ti serve una portovia la portovia grazie grazie non è l'ultima attenzione intanto si Spillo si ricorda tanto Cosimè no no allora la cantavano qui a Napoli ma la cantavano io sentivo tu si capone tu si capone o giocavo ballone chi era Capone era un giocatore del Napoli Antonio ah quindi facevano così o pensavi cioè avevi no no cantavano così ma non so se era in bene o in male ma però Spillo voleva sapere se era un bene oppure un male Spillo Susie Man ha trovato un amico fedele ah si l'hai visto si 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 ha trovato un amico fedele l'Igiene Urbana Evolution buonasera grazie mille grazie mille forse anche a Angria grazie che c'è lo so che vuoi le magliette lo so che vuoi la maglietta capito c'è Arpaia qui che reclama poi magari dopo lo dimentica la vuole capito quella è mia però faremo da vedere anche a Delfaia la sua maglietta detto questo io so che Gennaro appunto ha un riassunto finale di quello che è accaduto anche nel mondo web proprio in riferimento la partita di ieri vero? sì partirei con il momento più atteso dagli over 80 che ci stanno seguendo da casa che non hanno magari la possibilità di andare sui social questa è la prima immagine c'è posta per te dedicato tutto a Mertens che sta mandando dei messaggi dell'Aurentis da qualche giorno dice Maria De Filippi io credo che sia stato abbastanza chiaro la vuoi aprire questa busta e vedremo come finirà con il presidente del Napoli l'aprirà? nella busta di insigni solo sordi invece solo sordi nella busta di insigni invece detto ciò è stata una partita dura questo secondo i tifosi napoletani il secondo mestiere di hobby che ieri ha fatto tra l'altro anche la giocata d'apertura del gol della Salernitana ovvero il macellaio è stato un pomeriggio dal punto di vista arbitrale complicato Maurizio questa è la sala VAR di Napoli Salernitana lui è Stevie Wonder quindi ti fa capire che tipo di attenzione ci fosse e questo è De Laurenti che dà il benvenuto a Pairetto come nei migliori acquisti di mercato dopo quello che è successo per quanto riguarda i rigori il fallo da rigore su Elmas qualcuno dice che è una sorta di tu poi io non ci credo però c'è anche chi come Marinella dice bella mossa di De Laurenti perché con le maglie dell'Inter ci hanno dato finalmente due rigori detto ciò ovviamente l'immagine di Napoli Salernitana lo sapete tutti è quella di Lorenzo Insigne che sembra aver detto ti amo e ti amerò sempre ciccio a dispetto di quello che ha detto il sempre si capisce ha detto sempre la parola sempre c'è ti amo e ti amerò è una vecchia canzone è una vecchia canzone vediamo questo sempre però che cosa può essere perché abbiamo provato a decifrare il labiale del capitano a mamma e sembra mamma che poteva essere una delle frasi da dire per Toronto sempre diritto visto che si sta organizzando con la macchina ecco Bacconi ha sempre torto visto le analisi tecniche che sono state fatte e poi soprattutto visto il contratto con Spicu che ha firmato nel Toronto a Papaya Mori ci sta sempre tempo bravo Gennaro bravo Gennaro molto belli Maurizio Pistotti Adriano Bacconi Alessandro Renica grazie a Ciccio Morolda grazie ad Alessandro Volide e allora vi lasciamo con Pumarola Sound grazie per essere stato qui con noi grazie Peppe Gennaro Arpaia Massimo Cavuti Claudia Mercurio seguiteci anche sull'app del vero del calcio ciao a tutti e poi naturalmente tutti a Galleria Leone a mangiare a Galleria Leone